Ci sarà la classica margherita ma anche pizza gluten free e per finire pizze speciali come Terre d'Arezzo e Giro Pizza. Arezzo diventerà capitale della pizza per due giorni, torna infatti sabato 28 e domenica 29 maggio in piazza Sant'Agostino Pizza in Piazza. La manifestazione lanciata da Conf Commercio e dall'associazione Pizzerie Aretine giunta ormai alla sua seconda edizione. Abbiamo voluto proporre, calcando il successo già dell'anno scorso, la nostra pizza Terre d'Arezzo con prodotti chilometro zero, con pancetta, pecorino e pepe nero. Per quanto riguarda invece la novità di quest'anno abbiamo voluto calcare quello che è stato il successo dello scorso Giro d'Italia che è passato qui ad Arezzo. Abbiamo voluto proporre la pizza Giro, così l'abbiamo intitolata, prima pizza in Italia dedicata al Giro, farcita con mortadella, stracciatella di bufala e pistacchi. Quest'anno le pizze gluten free? Si faranno queste tre pizze con una limitazione di 24 ore e quindi faremo vedere come si lavora la pasta senza glutine che non è per niente facile, appunto non avendo il corpo che è il glutine, però saremo lì protagonisti, saremo gli attori principali a far vedere com'è il nostro gioco perché è un gioco poi alla fine. Tantissime pizze ma non solo, ci sarà infatti anche spazio per il divertimento, per la musica e per le animazioni per bambini. In più la piazza si vestirà per l'occasione a festa trasformandosi in un'oasi verde nel cuore della città. Non solo pizza ma anche musica con un grande spettacolo sabato 28 maggio con Deb Jones Rhythm & Blues, faremo divertire tutta la piazza con il blues e il jazz di Deb Jones, ma poi anche laboratori per bambini, creazione di impasti senza glutine con la banda dei piccoli chef, un evento a 360 gradi. E soprattutto i grandi cooking show con i nostri maestri pizzaioli di Confcommercio che partiranno da sabato 28 dalle 16 alle 18 e si ripeteranno domenica.